La situazione a Venezia non è grave, è drammatica, nel senso che molte strutture ricettive saranno destinate purtroppo a non aprire. Non occorre un esperto di economia per capire che Venezia stia pagando un prezzo altissimo alle limitazioni imposte oramai da quasi un anno per fronteggiare i contagi di coronavirus. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal proliferare di nuovi alberghi anche a Mestre, che sommandosi all'esistente hanno portato a contare centinaia di strutture, con un'offerta di posti letto sostenibile probabilmente solo con i flussi di un turismo di massa che aveva raggiunto decine di milioni di presenze l'anno. Noi stiamo vivendo tutti i disagi e i drammi di un'Italia in zona rossa, non sono stati inseriti gli alberghi come elementi ed esercizi commerciali che sono obbligati alle chiusure, però ne stiamo patendo direttamente tutti gli effetti. Sono previsti i ristori per i bar, per i ristoranti, le piscine, le palestre, non per gli alberghi. Senza ristori, senza turisti, gli alberghi rimangono in balia di una crisi che può portare spesso all'accessazione dell'attività e a finire in vendita, se non addirittura in svendita. Chi saranno i prossimi proprietari del patrimonio alberghiero di Venezia, di un settore che quando è in salute gode di profitti da capogiro. Esistono infiltrazioni mafiose, esistono infiltrazioni malavitose nel territorio del Veneto, ma tutto questo sono cose che noi andiamo dicendo inutilmente dal 12 novembre del 2019. Quindi a stupirsi che determinate cose succedano e da stolti, ancora da stolti maggiormente, e non porre argini economici e finanziari a questa situazione.